Qui c'è il nostro appartamento, bisogna passare da qui Lì c'è anche un cuore, molto bello Qui ci sono delle altarene e degli scivoli E lì c'è subito il boschetto Poi qui c'è mio fratello Ci sono dei tavoli Con un ombrellone Per andare al nostro bisogna passare da qui Si passa da qui E qui, poi ci sono sempre le scale Poi qui c'è uno sgabuzzino Qui uno scaffale che possiamo usare Io pure che ci sono le raniatele Quindi non entro Che è tutta a nostra disposizione E poi c'è l'ingresso Che vi farò vedere dopo Prima guardate qui che bello Allora noi praticamente ci possiamo arrampicare E andare ovunque Ad esempio prima noi siamo scesi passando da qua Ecco Molto bello, facciamo parkour Ed eccoci giù E adesso andiamo Dal video non si capisce bene quanto possa essere bello Ma iniziamo andando qui a sinistra Allora Qui c'è una stanza Con un letto Un armadio Qui un comodino con due cassetti Poi questo Poi uno specchio E di qua c'è un altro comodino E la finestra Poi vi faccio vedere cosa c'è fuori Anzi Vi faccio vedere subito Qui c'è la porta per andare sul balcone Come vedete questo è il balcone Con uno stendino Poi questa Che non so cosa sia Una sedia Poi si gira C'è un'altra sedia Poi qui c'è il nostro appartamento Qui fiorellini E qui è il balcone davanti Qui a destra Della stanza di prima C'è un'altra stanza Il letto è così Poi questa è soffitta Bellissimo Poi qui Poi qui L'armadio E poi questa scrivania Adesso ci abbiamo messo un attimino le cose Poi qui c'è un appendicose Torniamo all'ingresso Che si trova qua C'è questo Che è un appendibestiti bellissimo E poi Per farvi capire Noi siamo andati qui Adesso vi faccio vedere qua Qui c'è il bagno Che ha le piastrelle Ha già un sacco di cose Come un bicchiere Uno specchio Degli asciugamani La cosa più bella È che visto che siamo all'ultimo piano Ci saranno le finestre così E il tetto così Poi questa è la doccia Che come vedete è rialzata È fatta bene Eccola qui E poi il resto Tre rotoli di carta igienica gialla E va bene Vi faccio notare che qui c'è anche un telefono E qui c'è una stanzetta Qui c'è il contatore Che è bellissima Non la useremo Però c'è un lettino Poi il tetto così è bellissimo E la finestra Scusate se c'è la mia valigia qua L'ho un attimo messa qui Scrivania E dietro la porta Un armadio Qui al fermo la porta Sentite che silenzio Poi il salato e la cucina Ve li farò vedere dopo Perché adesso è un po' in disordine Visto che Stiamo sistemando tutto D'altronde qui c'è un innaffiatoio In una vasiera vuota E poi sentite che bel rumore il pavimento E poi la sedia Che controllo se si inclina Si si può inclinare un po' E vabbè Guardate che bei fiori Poi a parte questo libro con tutte le vape Ci hanno anche regalato il succo di San Buco Sì